The Boys episodio 5 Slegami sì che farà male Continua la serie di punta Amazon Prime con un episodio che si fa gioco della sospensione dell'incredulità e mette in scena un disagio dopo l'altro temi importanti della società globale, l'oggettivazione della donna, il mobbing aziendale e poi patriota che in un delirio di onnipotenza fa sfoggio di un ultra ripubblicanesimo che sbeffeggia clamorosamente Donald Trump e le retoriche complottiste, il tema Black Lives Matter in una scena bellissima tra un super poliziotto bianco e vittime nere fino alla tossicodipendenza che diventa soluzione ai problemi. Di tutto questo ne vorrei di più e ne vedremo. La prossima puntata infatti è acclamata come la più violente e sconvolgente magista sulla piattaforma streaming, l'irogasm, un delirio giastico molto ma molto pesante di cui anche gli attori si vergognano tanto che si dice non hanno voluto vedere la proiezione privata della puntata in quanto si sono vergognati di quello che hanno fatto durante le riprese. Insomma vedremo e se regge andremo alla conclusione di questa terza e clamorosa serie di The Boys. E come sempre vi ringrazio, vi invito a iscrivermi al mio canale e attivare la campanellina per le notifiche dei nuovi video e ci vediamo nel futuro.